Indagare il tema della profondità, un aspetto che lega fortemente anche le città di Matera e Trieste. Sono le parole dell'artista Emiliano Edera, il quale nelle scorse ore, nella cornice dei sassi di Matera, ha inaugurato la mostra d'arte intitolata Profondità e arricchita dalle sue incisioni. La mostra si inserisce all'interno del progetto culturale della Lega Navale Italiana sezione Matera Magna Grecia, dal titolo Matera e Acqua 2024. Questa mostra, come si desume dal titolo, indaga il tema della profondità, che è un tema che, peraltro, io parlo da triestino, ha una forte analogia fra le due città, seppur in maniera diversa. Matera, con le sue cisterne, con la sua storia e questa sua capacità di raccogliere l'acqua. Trieste, città di mare, ma paradossalmente con tante grotte, con grandi fenomeni carsici e quindi credo che il luogo migliore per esporre dei monotipi su questo tema non potesse che essere Matera e sono grato alla Lega Navale, al Comune di Matera di aver dato questa possibilità. l'acqua qui è un'altra dimensione, ha un altro aspetto molto prezioso per la vita e ci ha consentito, in quest'opera, di sentirci un po' in un porto sicuro. L'obiettivo di ogni navigante è quello di raggiungere un porto sicuro. E' quale porto più sicuro nella roccia. Questo contenitore culturale, quindi più di un contenitore d'acqua che abbiamo avviato, è un contenitore culturale dove stiamo portando avanti molti progetti.